Siamo in compagnia della vice sindaca della città di Torino a Michela Favaro, qui all'inaugurazione della nuova sede della fondazione Time2, open, uno spazio aperto di diversità. Le fondazioni e le associazioni svolgono un importante ruolo immateriale, che poi ha delle ricadute materiali, ma avere un punto fisico dove si svolgono certe attività, in questo caso in favore della disabilità, che valore aggiunto dà? Ha un grandissimo valore perché diventa un luogo veramente open, cioè aperto, dove tutti e tutte possono sentirsi inclusi, possono partecipare alla vita della città attraverso attività che sono proprio finalizzate all'empowerment, che credo sia quello di cui hanno bisogno i nostri giovani e le nostre giovani. Ecco, la città di Torino come può porsi rispetto appunto a queste iniziative con le fondazioni anche in un'ottica di sinergia? La città di Torino deve innanzitutto condividere le strategie e per proprio dare un orizzonte all'interno del quale ognuno può fare un pezzo e la sinergia tra l'amministrazione e il terzo settore è veramente la chiave poi del successo dei nostri progetti. Siamo qui con Samuele Pigoni, segretario generale di Fondazione Time2. Samuele, tu hai parlato un po' della strategia e del ruolo della fondazione, ecco, hai messo dei bei punti sull'obiettivo di questa fondazione e delle vostre nuove idee, in particolare il passaggio all'età adulta dei giovani con disabilità. Vorrei un attimino capire meglio quali sono questi vostri obiettivi anche se ci spieghi poi la vostra filantropia, così come tu hai detto prima. Sì, il nostro obiettivo è supportare i giovani con disabilità nella fase di passaggio all'età adulta. Molto spesso questo passaggio manca ancora un po' di personalizzazione, vuol dire che i giovani con disabilità sono raggiunti da servizi un po' standardizzati. Sta succedendo un enorme cambiamento in questo ambito, anche all'interno dei servizi, ma diciamo nella cultura delle famiglie e in generale nella società. Si sta iniziando a rivendicare il diritto dei giovani con disabilità di poter progettare in maniera personalizzata il proprio futuro e quindi la propria piena partecipazione alla cittadinanza. Questo ha una serie di conseguenze nel modo in cui si lavora con le persone con disabilità e la conseguenza principale è di orientare le pratiche educative ad aumentare la capacità di scelta, la capacità di autorappresentazione, la consapevolezza e l'autodeterminazione delle persone con disabilità normalmente abituate a essere un po' sostituite dagli altri, abituate a non essere interpellate direttamente su cosa vogliono, dove vogliono arrivare, che progetto vogliono per il proprio futuro, dove abitare, con chi abitare, che lavoro fare. Quindi da un lato c'è un tema di promozione di pratiche educative in un qualche modo emancipatorie, che aumentino la capacità delle persone di essere indipendenti. Dall'altro c'è tutto un lavoro sui contesti di qualunque tipo, perché se il passaggio alla vita adulta avviene nella città vuol dire che i contesti devono essere capaci di sostenere le caratteristiche diverse dei cittadini, quindi anche le disabilità. E allora c'è un lavoro culturale formativo che stiamo facendo con un sacco di organizzazioni che hanno enorme desiderio di sposare questa causa. E questo è un po' in sintesi quello che facciamo. Quanto è importante avere questi tavoli aperti continuamente, anche costantemente, con una città importante come Torino in ambito anche nazionale? Beh, è fondamentale. Il modo in cui noi interpretiamo il mandato filantropico è sistemico, quindi è di lavoro con le istituzioni, con le reti dei servizi e con gli altri attori del terzo settore. Abbiamo in mente cause, diciamo obiettivi che in nessun modo possiamo raggiungere da soli e che invece richiedono una stretta collaborazione e una messa in discussione continua proprio perché il cambiamento o è della società o è manchevole. Allora, ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato e per ora da Volume Bright è tutto.